Monti e Napolitano, nemici dello Stato. E Monti uccide. E questo è il testo dei due striscioni ritrovati stamattina a Palermo con accanto la tartaruga simbolo di Casa Pound. Entrambi sono già stati rimossi dalla Digos, in collaborazione con la Polizia Municipale di Palermo. Il primo striscione si trovava nel tratto di Statale 113, parallelo all'autostrada 29, tra l'uscita di via Ugolamalfa e l'uscita di via Belgio. L'altro in piazza Stazione Lolli. È in corso un'indagine della Digos per identificare gli autori del gesto compiuto alla vigilia della visita a Palermo del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e del Premier Mario Monti. Entrambi sono attesi in città per il ventennale della strage di Capaci, attentato mafioso in cui morì Giovanni Falcone. Altri cinque striscioni simili e contenenti lo stesso simbolo sono stati trovati in città. La Digos e la Polizia Municipale li stanno esaminando in queste ore. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS